Buongiorno da Vittimo News. Oggi, 17 aprile, è San Roberto di Lachaise-Dieu e ogni anno in questo giorno si festeggia la giornata mondiale della lotta contadina. In questo giorno viene ricordato il massacro di 19 contadini che lottavano per la terra e la giustizia in Brasile nel 1996. Per questo motivo ogni anno in tutto il mondo si celebra questo giorno a difesa dei diritti di contadini e contadine. Ultimamente molti contadini in tutto il mondo hanno visto perdere qualsiasi diritto a causa del crescente sviluppo economico. Sono molti, soprattutto in zone remote del nostro pianeta, che vedono togliersi i terreni per far fronte alle esigenze di urbanizzazione. L'accaparramento di terra è un fenomeno molto distribuito nel nostro pianeta. Viene stimolato da un sempre più crescente numero di investitori e persone di potere su scala locale, nazionale e internazionale con la convenienza di governi e autorità locali per controllare le risorse più preziose del mondo.